Allora, parto io dal costruire la storia e poi, sai, costruire la storia mi piaceva in qualche maniera raccontare uno spaccato di una parte di società dove molto spesso vince chi è più forte, la predominanza, la lotta all'estinzione e alla sopravvivenza, il potere, chi comanda, eccetera, eccetera, raccontarla attraverso un nucleo familiare dove si poteva mettere in evidenza soprattutto quello che tradizionalmente dovrebbe essere l'amore di una famiglia, l'unione tra fratelli eccetera, eccetera. Costruire questi personaggi insieme a loro poi è stato estremamente stimolante giorno dopo giorno perché tutti quanti hanno contribuito a questo film dando un valore aggiunto che io di sceneggiatura non mi ero immaginato in realtà insomma e sono riusciti a dare talmente tanta più tridimensionalità ai personaggi, più emotività, più realtà di quanto io mi sarei mai potuto, non dico immaginare perché sapevo che erano dei attori strepitosi ma in fase di scrittura non me l'ero immaginato insomma. Allora a me interessava, parlavo con Marco all'inizio quello che mi colpiva che gli avevo detto in scrittura era l'idea del fardello che si portano presso queste persone, nel senso la tua vita inizia e inizia in quel modo e solo che poi nel proseguito della storia non c'è un riscatto, ci può essere un riscatto dopo un evento del genere avvenuto quando tu sei solo un bambino. Questa cosa è interessante di per sé come tu parlai di tragedia greca ma insomma ecco i personaggi da quel momento con sfumature diverse condividono questo punto di partenza, questo inizio infelice della loro esistenza. Si è lavorato da lì per quanto mi riguarda era una suggestione abbastanza potente e la scendiatura è scritta bene e con Marco io mi sono trovato molto bene sul set e come diceva Pietro prima anche nella visione del racconto e dell'interpretazione di conseguenza era molto stimolante e curioso cioè prima delle riprese per quello che ti chiedeva e per il punto di vista e non nascondo che a volte avevo dei dubbi e che poi aveva ragione lui quindi è stato molto interessante. Sì, per Marco e Otcorn, Dario Gangemi, volevo chiedere se avevi dei punti di riferimento estetici e come hai lavorato col direttore della fotografia che era lo stesso del tuo primo film e agli attori come avete costruito diciamo l'alchimia, questa dinamica tra fratelli e com'è lavorare con Marco Bocci il regista? Grazie. Allora guarda, avevo dei punti di riferimento estetici perché mi sono appassionato, mi piace tantissimo il cinema del nord Europa e mi piaceva avere un'immagine fredda, un'immagine livida, un'immagine quasi gelida in alcuni momenti insomma quindi abbiamo cercato di lavorare con Federico Annichiari, col direttore della fotografia cercando prima di tutto questo tipo di sensazione giocando anche sulla pasta dell'immagine quindi insomma sgranandola al punto giusto per riuscire a far vivere bene quel livido e restare freddi insomma però sai il punto di vista estetico era un po' quello del cinema del nord Europa perché mi sembrava anche questa una storia molto adatta per essere vista e vissuta insomma con un tipo di fotografia del genere poi a voi ragazzi No, io rispondo alle due domande insieme partendo dal fatto che tu hai detto che questi fratelli sono quattro adulti in realtà io penso che ognuno di noi rimane fermo al momento in cui subisce un trauma per cui in realtà loro sono... poi la vita va avanti anche magari per 80 anni si perdono i capelli, vengono i peli ma io immagino che gli esseri umani se non lo superano rimangano sempre le persone che hanno visto l'orrore e questo sono loro e Marco li fa anche vedere nel momento in cui succede questa cosa e poi come procedimento attoriale io sono molto basico, non cerco di pensare poco e di usare il respiro, il corpo e io ho semplicemente immaginato siccome il mio personaggio è l'unico che appare come dire, teoricamente un po' fuori e che abbia trovato uno sbocco semplicemente quando si interrompe questa sua traiettoria di apparente salvezza ho semplicemente deciso di respirare molto più piano e di tornare molto più bambino di immaginarmi piccolo, piccolo anche fisicamente questo è proprio un procedimento organico che ho utilizzato io io unendo le due cose, sia il rapporto con Marco Regista che il lavoro che posso aver fatto sul ruolo ti accorgi che Marco se tu arrivi sul set nel tuo campo visivo non c'è e ti spunta da dietro una caviglia con un punto macchina stranissimo e un fiumino fucsia quindi c'è questa conduzione, si aveva sempre questo fiumino bianco veramente improbabile o fucsia anche forse qualche volta però questa conduzione fanciullesca del set libera, quasi infantile ma in senso buono mi ha portato a vedere più che un adulto che vede il suo passato da bambino è questo bambino mai cresciuto che vede un adulto che è un fantoccio e quindi ho provato a immaginarlo in questo percorso è vero perché siete scusati io prima sono diverso, scusate mi sono distratto con Marco mi sono trovato bene subito sul set più che altro la capacità anche di stabilire un rapporto e una capacità proprio di tenere il set in mano mi ha colpito comunque al secondo film non pensavo cioè la capacità di tenere sotto controllo un set in un ambiente particolare con tanti personaggi con tanti attori non è scontato e il piumino volevo dire comunque faceva molto freddo insomma a favore di Marco si faceva penso a zero gradi ma che fosse bianco fu insomma comunque ecco ci teniamo a dirlo voglio dire una cosa che non ho detto che non ho mai concesso e permesso a nessun regista di fare quello che mi ha fatto Marco Bocci io la fiducia che ho dato a Marco non l'ho mai data a nessuno anche come diceva prima Filippo spesso essendo un po' perplesso e cose poi naturalmente per fortuna avevo torto tranne sul piumino grazie ragazzi Marco Bocci 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 Marco Bocci